Di Maio ha parlato di sicurezza per i recenti episodi che sono accaduti a Roma e parlava di maggiori poteri al sindaco Raggi. Sono frasi che non sono ancora piene di contenuti, non so che intenda perché vediamo qual è la sua proposta, mi sentirei di dire da Vice Presidente dell'Anci, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da sindaco d'Italia che non funziona di dare poteri a un sindaco e non ad altri sindaci, salvo voler ritenere che a Roma c'è un'emergenza nazionale. Se a Roma c'è un'emergenza nazionale ci dobbiamo preoccupare, vuol dire che la situazione è fuori controllo, se bisogna dare poteri speciali solamente a un sindaco e non dare gli stessi poteri a tutti gli altri sindaci, almeno nelle città metropolitane, ovviamente, faccio una riflessione di questo tipo.